Lunedì 23 agosto, Santa Rosa da Lima. È il 235esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 130 al termine. Il sole sorge alle 6 e 21, tramonta alle 20 e 05. La luna sorge alle 21 e 05, tramonta alle 7 e 09. A Perasto, in Dalmazia, viene ammainato per l'ultima volta il gonfalone della Repubblica Veneta. Salutate da 21 colpi di cannone, le gloriosi insegne vengono messe su un bacile d'argento e portate nella cattedrale, dove il vescovo le deporrà sulla mensa dell'altar maggiore. Le previsioni per domani. In pianura, prevarrà un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con ampi spazi di sereno. In montagna, il tempo sarà variabile, con significative schiarite, alternate soprattutto nel pomeriggio a nubi sparse e locale instabilità, associata ad una maggior probabilità di piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature minime per lo più diminuiranno, le massime in pianura generalmente aumenteranno e in montagna subiranno contenute variazioni di carattere locale. Grazie a tutti.